Musica Benvenuti in questo spazio di approfondimento informativo a cura di Società Gas Rimini. Siamo qui con l'ingegnera Luca Dina, responsabile dello sviluppo del fotovoltaico. Ingegnere, come fare per un cittadino a capire che tipo di impianto installare? Innanzitutto è consigliabile installare un impianto calcolato in base ai propri consumi elettrici. Una famiglia base di 4 persone solitamente consuma circa 3.500 kWh all'anno e nella nostra zona è sufficiente, per produrre questa potenza, installare un impianto da 3 kW. Ecco, e quanto è conveniente ancora oggi installare un impianto fotovoltaico? Bisogna sfatare il mito che il calo degli incentivi ha rovinato il mercato del fotovoltaico perché il calo del costo dell'installazione di un impianto è stato proporzionale al calo degli incentivi. Ad oggi installare un impianto da 3 kW costa intorno ai 10.000 euro e grazie agli incentivi statali si può ricavare un introito di 1.000 euro all'anno grazie alla produzione e a questi 1.000 euro va aggiunto il risparmio in bolletta che è quantificabile da un minimo del 33%, quindi un terzo della bolletta viene risparmiata a un massimo del 50-60%. Ingegnere, come deve muoversi un cittadino per scegliere il proprio impianto fotovoltaico? Sicuramente il primo passo è quello di chiedere informazioni all'ufficio proposto del proprio comune. Qui a Rimini c'è l'ufficio energia che è proprio l'ufficio dedicato a tutti i tipi di energia sia termica che alternativa o rinnovabile. Nei comuni di Mitrofi sicuramente ci si può rivolgere o allo sportello unico dell'edilizia o all'ufficio tecnico. Il secondo passo per un cittadino è quello di rivolgersi a una ditta specializzata o a un installatore di fiducia. Sicuramente la ditta o l'inistratore deve avere esperienza ed affidabilità perché ogni tanto si possono vedere installazioni in cui i pannelli sono posizionati in zone d'ombra e questa posizione va a precludere l'intero funzionamento dell'impianto. Per concludere, quali sono i benefici ambientali di installare un impianto fotovoltaico? Un impianto fotovoltaico ti fa diventare in pratica un produttore di energia elettrica pulita. Grazie al tuo impianto eviti emissioni in atmosfera di gas clima alteranti. Si può stimare che un impianto fotovoltaico da 3 kW nel suo arco di vita 25 anni produce circa 87.000 kWh di energia pulita. Grazie a questa produzione di energia tu eviti l'immissione in atmosfera di 56 tonnellate di CO2. Inoltre ha il vantaggio di non produrre alcun inquinamento sonoro. Grazie all'ingegner Dina di essere stato con noi. Questo spazio informativo a cura di società Gas Rimini si conclude qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.